Sostiene Pereira che quel giorno aveva trovato su un'alivista un saggio che lo aveva impressionato. Ho appena letto il suo articolo, lo trovo molto. Oh, no, no, no. Lei che può scrivere sul giornale. Racconti quello che succede. Faccia sentire che non è d'accordo. Traduco racconti dal francese. Non saprei fare di più. Forse tutto si può fare. Basta averne la volontà. Vestore, possiamo accompagnare Martina del bagno? Sì. Tutto. Martina è un sedente bene. Ragazzi, è il primo che mostri il sedere ai finestrini. Lo faccio sospendere, è chiaro? Non mi preoccupare. Vieni, Maiello, buttiamoci dal vortice. Vieni. Ma adesso che mi hanno bocciato? Ancora no. E Rullino? Quale è Rullino? E' un carico! Smettetelo! Ma che fa, Bianci? Ma bisogna essere temprato. La scuola è una guerra, eh. Leone, sei un sicario. Sì. Forte. Leone, nei cinema. La scuola è una guerra, il71 ammbizzazione. La scuola è un paese. Di l' 얼� handi. Knick, tritura. Leone, nei controληisions. La scuola è una guerra, il13. Grazie.